Risveglio amaro per la famiglia di Ornella Muti che nella mattina di mercoledì ha dovuto lasciare la sua casa di Roma dopo che due poliziotti e un ufficiale giudiziario si sono presentati intimando di lasciare l'appartamento Quando ti impacchettano e ti portano via, stamani c'eravamo svegliati con amore e allegria ha scritto Nike Revelli sul suo profilo Instagram con tanto di hashtag cancelletto sfrattò in alto, per poi raccontare l'accaduto al Corriere della Sera, eravamo d'accordo con i proprietari che ce ne saremmo ammati Dopo 12 anni di affitto chi si aspettava di trovarsi in una situazione del genere? È stato bruttissimo, un primo Ora capisco cosa si provi a essere sfrattati ha spiegato la figlia dell'attrice che, insieme a lui, gli altri due figli Andrea e Carolina Cochinetti, tre nipoti e la madre oltre a novantenne, ha dovuto liberare l'appartamento nel quartiere romano della Gallia I muti, infatti, erano consapevoli di dover dire addio alla loro casa, per un problema con le tubature, e pensavano di trasferirsi momentaneamente in una campagna femontese, ma l'improvviso ricovero della madre di Ornella lì ha fatti restare nella capitale Ornella muti, che vive all'estero, tra Genova, Mosca e Monte Carlo, si trovava nella casa alla Balduina per assistere la madre di Ornella lì ha fatto restare nella capitale La madre di Malata, da ieri è ospite di Amici Naike, invece, ha trovato un riparo provvisorio presso l'hotel Parco dei Principi, vicino a Villa Borghese, insieme a gatti, cani e un cricetto Come riporta sempre il Corriere, la signora Muti non vive in quella casa, hanno precisano dall'ufficio stampa dell'attrice, si appoggia lì quando viene a Roma È un problema dei ragazzi, sono scoppiate delle tubature e sapevano di doversene andare When they fuck you up and take you away delegati Faccina terrorizzata Faccina terrorizzata Faccina che fa l'occhiolino e mostra la lingua Faccina che ride a crepapello Faccina che ride a crepapello Faccina terrorizzata Quando ti impacchettano e ti portano via Faccina terrorizzata Good Morning World America Tutti in cui walk up and get you When they pack you up and take you away Faccina terrorizzata Faccina terrorizzata Faccina terrorizzata Faccina terrorizzata faccina che fa l'occhiolino e mostra la lingua faccina che ride a crepapelle faccina che ride a crepapelle faccina terrorizzata quando ti impacchettano e ti portano via faccina terrorizzata faccina terrorizzata faccina terrorizzata faccina terrorizzata faccina terrorizzata good morning world America tutti in qui wakka beppi Grazie a tutti.